Ben trovati, siamo con Domenico Cimino, proprietario del gruppo Cimino Hotel. Buongiorno Domenico. Buongiorno Roberto. Allora, questo è il nuovo Amsterdam Suite Hotel Spa, un nuovo hotel della catena, il nono se non erro. Sì, abbiamo aperto questo qui, l'abbiamo aperto da due mesi, è stato fortemente voluto perché comunque è stata l'unione di tutto il quartiere, perché qui comunque potremmo chiamarlo un villaggio diffuso perché partiamo con tutti i negozi, avevamo il Vienne, abbiamo tutti i pub, i ristoranti e i bar qui sotto, abbiamo completato il quartiere ristrutturando l'Amsterdam che era anni che avevamo in progetto. Abbiamo puntato su un boutique hotel, quindi su un albergo di design, abbiamo voluto dare un taglio importante perché le camere vanno dai 17 metri quadrati fino ai 40 metri quadrati e sono tutte con balcone, vista mare. Abbiamo voluto comunque dare un segno positivo di ripartenza dopo questo periodo di Covid. Ecco, l'hotel Amsterdam Hotel Suite Spa. Spa avete un centro benessere? Abbiamo completato, diciamo, quello che avevamo perché noi avevamo il Vienne col centro congressi, abbiamo voluto dare un centro benessere, quindi completare l'offerta con questo centro benessere. Ecco, che significato ha per Rimini avere un hotel di questo livello proprio pieno centro? Ma la soddisfazione è che l'anno scorso durante il cantiere ci venne a trovare Jamil, l'attuale sindaco che all'epoca era vice sindaco e comunque è uscito sorridendo, ha detto ho visto una bella ristrutturazione, una ristrutturazione importante in cui si fa la qualità. Dopo è venuto anche Mauro Santinato della Teamwork e le stesse risposte, stessa emozione aveva anche lui e sono contento insomma di vedere che persone esperte del settore del turismo apprezzano il lavoro che abbiamo realizzato nella ristrutturazione, scegliendo la qualità, partendo dai materiali di qualità e quindi valorizzando tutto quello che è il territorio italiano. Quali clienti puntate voi su questo hotel? Noi essendo vicini al palacongresso di Rimini puntiamo principalmente al congressista, è naturale che comunque saremo felici di ospitare tutti quanti da quando abbiamo aperto metà della clientela sono stranieri e vediamo che dalla recensione comunque la scelta fatta ripaga. Ecco stranieri, c'è una guerra ai confini dell'Europa che comunque ingloba un po' tutto il mondo Avete risentito di questa guerra e comunque nel prossimo futuro ci possono essere delle ripercussioni? Noi sicuramente abbiamo risentito della guerra perché avevamo messo in campo con Annex Tour e l'aeroporto Federico Fellini dei 50 voli settimanali, 10 dall'Ucraina e 40 dalla Russia. Sono stati cancellati 2-3 mesi di lavoro in un giorno quando è scoppiata la guerra. La guerra non mi esprimo perché sicuramente di base noi per il turismo siamo contrario alla guerra. Sicuramente una pace anche veloce ma per rispetto anche delle popolazioni che comunque stanno soffrendo andrebbe vista con urgenza. Lei ha praticamente una serie di hotel che vanno dai 3 al 5 stelle appunto a Salerno, Atena Lucana. Che tipologia, che differenza c'è tra la clientela da un hotel diciamo 3 stelle a 5 stelle? Quali sono i contatti che avete da parte dei clienti? Ma allora la qualità che noi puntiamo a dare sia 3 stelle che 5 stelle, cerchiamo di dare naturalmente la stessa qualità però è normale, diversifichiamo a secondo della posizione di dove viene costruito l'albergo e del cliente a cui vogliamo rivolgerci. Nel 3 stelle abbiamo servizi standard internazionali quindi la qualità del bagno, box doccia, televisori piatti, un buon materasso che sono la base dell'ospitalità. Poi nei 4 stelle superiori, nei 5 stelle offrammo molto più servizi e gli spazi sono più ampi e più curati. Ecco voi avete anche un hotel in Germania no? Sì a Dresda, ma anche lì è una clientela internazionale perché comunque è vicino a Nuove, a Dresda e stiamo lavorando a livello internazionale. Pensa che crescerà ancora la catena Ciminotel? Per adesso ci godiamo l'apertura dell'hotel Amsterdam, quello che penso io lo devo condividere con la famiglia, con i miei figli perché è ora che iniziano a capire l'impegno che porta l'albergo, oltre le tante soddisfazioni, però un impegno quotidiano e giornaliero che va condiviso. L'anno scorso avevate aperto un hotel qui vicino a Rimini che è gestito da suo figlio. Sì, adesso siamo arrivati a 9 alberghi, circa 400 camere. L'anno scorso abbiamo acquisito un albergo sul mare a Viserba vicino alla Fiera che gestisce mio figlio e quest'anno abbiamo ampliato ancora l'offerta con un altro albergo che è l'Amsterdam. Che era anni, avevamo questo progetto in mente e l'abbiamo realizzato e di questo siamo orgogliosi. Benissimo, allora facciamo in bocca al lupo per il proseguio e per il futuro e per la stagione. Vi invitiamo tutti a venire a Rimini a Amsterdam Suite, Hotel e Spa. Buona stagione. Grazie, in bocca al lupo per tutto il settore del turismo. Chi vuole prenotare l'Amsterdam, che è un bellissimo albergo, le lascio il numero, è 0541 39 18 20. Chiedete a Di Sone, che è il nostro direttore giovane e dinamico, e vi accontenterà su tutte le richieste. Grazie Domenico, buon lavoro a loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.